ciao giorgio siamo nel tuo ufficio qui in bovisa io volevo questo pomeriggio iniziale da come è nata bovisa io me lo ricordo era fino 98 eravamo al terzo piano della nave di là in leonardo tu sei arrivato e detto da settembre si va in bovisa però nessuno ha detto perché ma ci siamo mossi tutti ma come era come era nata l'intenzione del poli di fare questo questo campus e perché i meccanici dovevano venire di qui ma bovisa perché in leonardo eravamo troppo vincolati dagli spazi chiaramente e soprattutto perché avevamo capito se noi non riuscivamo a avere degli spazi per fare dei laboratori non riuscivamo a decollare far decollare i dipartimenti diciamo di ingegneria per lo meno che hanno bisogno di laboratori e quindi l'idea di venire in bovisa era soprattutto per incentivare i laboratori perché di mai era uno che puntava molto con rapporti con mondo industriale e per avere rapporti con mondo industriale bisogna avere la capacità non solo di fare ricerca analitica ma anche ricerca sperimentale tra l'altro qui uno dei grandi laboratori è stata la galleria del vento io mi ricordo allora aveva il gruppo di meccaniche aveva una piccola galleria del vento mi ricordo un metro per un metro in una ditta qua della salvi che con cui si collaborava moltissimo sul tema delle linee elettriche ed è forse è stato uno dei temi che ti ha fatto che ha fatto anche pensare che dovevamo continuare a sviluppare ingegneria del vento la partenza della collaborazione con la salvi è stata molto importante perché i primi laboratori per fare campate sperimentali che adesso abbiamo film bovisa abbiamo due campate sperimentali e abbiamo un sacco di shaker per per le prove di vibrazioni direttore generale della salva è venuto da noi una volta no e ci ha chiesto che dove approvare degli oggetti che erano gli ammortizzatori delle linee elettriche di cui non sapevano niente li producevano e rivendevano no abbiamo provato su shaker da lì abbiamo incominciato abbiamo sviluppato anche un brevetto degli assorbitori a quattro gradi che ne erano sono stati fino anni 80 io ero un giovane ricercatore quindi stiamo parlando di più di 50 anni fa non esisteva il trasferimento tecnologico non esistevano gli spin off le start up non esisteva niente forse neanche le collaborazioni con le aziende per il politecnico pochissime infatti tutto sommato poi se ti ricordi noi andavamo forse tu non ti ricordi ma noi andavamo a fare ricerca sperimentale alla salvi che aveva fatto ci siamo al cordo forse ci sei andato anche tu e perché noi non li avevamo questi laboratori il rapporto con il mondo industriale si è incominciato a svilupparsi in quei tempi prima la prassi era che bisognava fare ricerca prevalentemente di base l'aeroporto industriale non è che era visto con diffidenza però insomma non era non era il massimo tant'è vero che avevamo qualche difficoltà con quei miei gabbi a quel punto lì era il massa no e da lì è nato tutto il filone delle unie elettriche che è un filone importante del nostro dipartimento e poi si è diffuso anche su tutte le strutture di fatto che snelle che possono come i ponti sospesi beh sì perché io ricordo che non li facevamo i salvi ma si usavano le gallerie del vento in giro per l'europa per cominciare a provare i primi sezionari dell'impalcato no a quei tempi che mi sta parlando sempre di 45 50 anni fa il leo finzi che è un era stato chiamato dalla società ponte di messina che è una società che era stata creata per fare il collegamento non il ponte il collegamento stabile tra sicilia e la calabria e lui è stato chiamato e sapendo che noi ci occupavamo di linee elettriche quindi azione del vento sulle linee elettriche ma chiamato come ero appena diventato professore di prima fascia io no come esperto di azione del vento sulle strutture ed allineato a tutta la ricerca che abbiamo fatto prima nelle gallerie piccola nostra poi in quella piccola della salvi poi siamo andati in giro per tutta Europa a far prove e finalmente abbiamo costruito la nostra galleria avevamo avuto un finanziamento dal ministero che aveva chiesto al politenico tra l'altro progettata praticamente tutta interna perché io ricordo l'abbiamo progettata noi ricordo che avevamo fatto il modellino della galleria ed è stata progettata sia la parte motori aerodinamica era giù da basso alla nave almeno uno della nave si insieme e poi costruita finalmente questa galleria l'impalcato del ponte di adesso sì che poi hanno impalcato la struttura che poi è stata accoppiata in giro per il mondo tra l'altro il fatto che comunque dovessimo fare la percorribilità ferroviaria ci ha aperto anche un pochino al tema dell'ingegneria ferroviaria che però è stato scatenato da una tragedia da quell'incidente del pendolino di piacenza quando quella infatti hai ragione il ferroviario è nato la prima una prima botta perché dovevamo fare un collegamento anche ferroviario per il ponte si messina e siccome gilardini che era il presidente della società era un uomo di agnelli avevamo collaborato con la fiat ferroviaria abbiamo avuto un bel input perché loro chiaramente erano esperti del ferroviario noi eravamo un po' all'inizio hai capito e da lì è nato il ferroviario poi un aborto importante come dici tu è nata con piacenza un incidente di piacenza che il pendolino io ero ctu come ctu ho conosciuto mauro moretti e con lui abbiamo incominciato una forte collaborazione dopo questo incidente perché abbiamo affrontato tutti i problemi tecnici e è stato creato poi il gershi ferroviario il pendolino mi ricordo che uno dei pendolino era una delle strutture meccaniche che aveva il primo sistema di controllo no per cui e lì è nato anche il controllo dei sistemi meccanici tu tornaste qui dicendo dobbiamo occuparci di controllo perché controllo e sistemi controllo di meccanica e via dicendo sarà il futuro e quindi abbiamo aperto tutta l'area di studiare come tu ne sai qualcosa visto che abbiamo i primi mi hai detto che dovevo smettere di occuparmi di altro e occuparmi di questo infatti ti sei messo occupare di controllo di controllo tra le altre cose che è stato fatto e forse in quegli anni nasceva ingegneria dell'automazione e quindi è nato lì anche l'idea di fare l'ingegneria dell'automazione a milano perché più o meno erano gli stessi anni di unire la parte elettrica la parte meccanica e i sistemi di controllo è nato l'idea di far partire perché dobbiamo dirlo noi abbiamo creato un gruppo di 11 professori di prima fascia stop a quei tempi allora io mi ricordo sono laureato nel 92 nel 95 96 il gruppo chiamiamolo di meccanica dei sistemi no così si era fatto da una lentina di persone in totale e tra l'altro io ero l'unico dottorando quando facevano la riunione di sezione ero l'unico che rimaneva fuori perché allora i dottorandi oggi il gruppo di meccanica dei sistemi sono 120 persone che rispondono un capo solo che sei tu come si fa io sono io sono io sono io sono io sono tenere insieme 40 accademici e 60 70 giovani che vogliono fare ricerca però è la formula magica ma prima la selezione delle persone che abbiamo selezionato praticamente negli ultimi decenni insieme devono essere bravi ma devono avere anche il carattere di collaborare e poi vabbè non abbiamo fatto tanta fatica a tenerci uniti però evidentemente abbiamo scelto le persone giuste e poi affrontando problemi importanti interessanti emozionanti se vuoi dire no la gente si appassiona e quindi capisce che essere uniti e collaborare insieme anche perché voglio dire ormai come dici tu le discipline che entrano per analizzare i problemi sono tantissimi quindi non puoi avere uno esperto devi avere tanti esperti nei vari settori e messi insieme però devono collaborare devono parlarsi devono messi insieme formano la forza hai capito da soli sì l'altra cosa su cui ricordo che tu premevi era la puntualità la professionalità della risposta perché spesso lavorando con le aziende quello un po' ogni tanto che all'accademia ma succede anche adesso però sì sì ci sgribi anche adesso quando proprio non trattavi mai malissimo abbastanza ma però quando ci dicevi pinocchietto vuol dire che veramente eravamo combinata grossa insomma però sulla professione più che sul sulla parte scientifica su cui eri sempre sulla professionalità tu hai battuto perché se col mondo esterno non puoi dire io questa ricerca te la faccio in due anni e poi gliela fai in tre anni loro ti chiedono di farla in un anno se non è un'organizzazione se non è un gruppo importante se non hai laboratori che funzionano se non hai tutto questo non riesci a farlo e quindi il vantaggio del gruppo è proprio questo e credo che noi tuttora siamo un gruppo unito funzioniamo così i laboratori è un gruppo che ha una certa anche dimensione perché naturalmente le dimensioni ti permettono se ti arriva un progetto in più di poterlo aggredire ti puoi spingere a fare delle cose anche ardite se vuoi perché i laboratori ce li hai le persone ce li hai eccetera e quindi infatti noi prendiamo delle cose che sono sempre sul limite dei tempi no nel senso che sono sempre fuori dai limiti sei tu che ci dici che per domani dobbiamo fare una cosa forse la cosa che unisce tutti era unire sempre il modello matematico dalla misura cioè la cosa che unisce il vento l'automotive la meccatronica l'autodynamics il processo di costruire è sempre lo stesso sempre tutti noi dobbiamo fare misura il ricordo che appena sposato francesca se lo ricorda ancora bisognava andare a fare di notte la misura sulla metropolitana di milano ma diciamo abbiamo avuto un'occasione ultimamente in cui c'è un problema da risolvere dico ragazzi la prima cosa misuriamo se se quindi bisogna essere esperti nel misurare dopodiché dalle misure devi essere esperto nel creare dei modelli fare il confronto e perfezionare le dopodiché trovi la soluzione tra l'altro anche le misure è cambiato tantissimo ricordi c'erano un elettronica enorme proprio nelle linee elettriche abbiamo avuto filoscopio penalizzatore di spettro abbiamo sviluppato i wireless no i sistemi wireless anche adesso sul pantografo sia sia sulle linee elettriche sia nel ferroviario per chi dirige un gruppo di ricerca un ateneo un dipartimento è sempre difficile fare la visione con la parte l'esecuzione sembra facile da tutto il tuo racconto sembra quasi che tu l'avessi visto 40 anni fa tutto il percorso invece è intuizione però guardare lontano però puoi cogliere anche un pochino le opportunità che ti si propone bisogna avere fortuna però bisogna saperla sfruttare e soprattutto guardare un po' lontano come come avevo io alle spalle il politecnico perché se non arrivo al politecnico i laboratori la gente eccetera che di politecnico alle spalle una grossa per l'istituzione e soprattutto il fatto che sia riuscire a un gruppo numeroso perché da solo non riesce a fare niente deve avere tanta gente e questo dovrebbe un messaggio secondo me importante che non si il gruppettino da tre quattro persone il professore bravissimo che si tira su due o tre persone oggi non va da nessuna parte tu hai insegnato un po' dappertutto nel senso che hai insegnato i meccanici hai insegnato gli automatici hai insegnato a corsi di base forse la meccanica delle vibrazioni è stato un po' ho insegnato l'automeccanica delle vibrazioni ultimamente ho fatto wind engineering perché così non c'era un corso più da noi lo studente era quello che ti dava la voglia l'aula ti è sempre piaciuta tanto l'aula mi è sempre piaciuto tanto è quello che ho cercato di dire ai ragazzi sempre quando andate in giro e quando ho fatto una cosa cercate di capire quello che succede nel mondo sia anche curiosi la maniera migliore di imparare è essere curiosi e poi dopo quello che è importantissimo è avere passione per la curiosità ti fa nascere la passione sentiti l'ultima cosa io una volta mi ricordo quando ho deciso di candidarmi a lettore tu non eri convitissimo allora sono andato perché avevo deciso che prima ne avrei parlato con qualche persona che ritenevo importante il riferimento dell'ateneo penso non necessariamente i direttori penso a Ducubedo penso a Sando Salsa penso al Neomanchi e io andavo là e quello che mi dicevano era mi ha già telefonato il Giorgio lui non ti appoggia per cui è stato un inizio come campagna elettorale in salita ma lo sapete perché? perché lui è sempre stato il mio delfino che io volevo andare via prima perché io ho una bellissima barca a vela ecco poi la barca a vela dobbiamo parlare perché l'altro grande passione oltre il poli è la barca a vela dove vai tutti i weekend? dove vado tutti i weekend? ho fatto regate ho vinto i campionati italiani e non dimentichiamo avevo già quasi 70 anni quando ho vinto i campionati italiani però anche quello era un laboratorio e beh sì questo è vero ma tu scherzi o era è un laboratorio ma tu scherzi dicevo l'altro giorno il gruppo di lavoro internazionale sai che adesso c'è di moda 20 sinottici 20 non sinottici io dico io ho i 20 sinottici che sono quelli che in genere si studiano dappertutto con velocità elevate non li ho mai visti imbarcati a vela perché al massimo ho visto 50 nodi che vuol dire 25 metri al secondo mentre la botta di un quarto d'ora che ti stai sul mare e che stai lì erano tutti 20 non sinottici la barca a vela serve perché io ho l'anemometro a bordo vedo quello che succede il vento è un mio amico hai capito quindi non un nemico per cui la barca a vela è stato lobby che ti ha permesso poi lobby che che aiuta perché nella vita è bisogno che ha aiutato la mia professione di sicuro perché senti io ti ringrazio abbiamo secondo me toccato tantissimi temi forse anche troppi però ho detto perché ero contrario che tu fossi rettore no ma ormai è passato ormai sono finito quindi non puoi più a porti no no ma prego prego non voglio nel senso che lui era il mio delfino no ecco quindi perché io volevo andare in barca perché ero il meno bravo scientificamente no 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 quello è vero no no non c'era alternativa per cui io volevo andare in barca a vela hai capito e invece sono figo povero vecchietto ancora che ogni tanto ti faccio no sono qui perché mi diverto se non mi divertissi non sarai più e la cosa che secondo me è bellissima perché che la nostra professione ci dà oltre alla curiosità oltre a passare un progetto di uno dall'altro è il fatto che lavoriamo sempre con nuove generazioni bisogna essere alla loro altezza perché quando quando non riesci più a dargli qualche cosa ti mettono in un angolino giustamente quindi dobbiamo sempre essere efficaci verso di loro grazie Giorgio del tuo tempo grazie a te che mi hai e adesso dobbiamo però metterci a lavorare perché abbiamo quel progetto ah sì